A distanza di 9 anni la situazione della Gravinella giù al campo sportivo è sempre uguale, non è cambiato niente. A 9 anni, da quei terribili giorni, quando un alluvione sconvolse Ginosa provocando 4 morti e un territorio in ginocchio, uno degli eventi alluvionali più dolorosi della storia, tragici giorni che evidentemente non hanno insegnato nulla a nessuno. Questa mattina le famiglie della zona campo sportivo, proprio lì dove fu trovata la macchina di Rossella, ci hanno contattato spiegando che non c'è nessuna sicurezza, non è stato fatto nulla, ma solo lo strazio del tragico ricordo. Qui siamo in via per Monte Scaglioso, a fianco al campo sportivo Teresa Miani, dove c'è il torrente Gravinella, che 9 anni fa abbiamo avuto un brutto evento, come voi sapete, nella giornata di oggi 7 ottobre. E come vedete la situazione è identica, cioè da allora non è stata fatta nessuna manutenzione riguardante il canale torrente Gravinella e da allora non si è visto nessuno, anche dal punto di vista dell'amministrazione comunale. Abbiamo chiamato, abbiamo ripetutamente fatto vedere le situazioni, si è venuto qualcuno, roba di un paio di anni fa, se ricordo bene, però da allora niente. E poi la situazione è anche grave, che qui ogni volta che piove abbiamo la situazione che dai tombini fuoriesce i liquami. Ecco, quando piove c'è di più questa situazione, però è anche, diciamo, anche dal punto di vista igienico e malodorante. Immaginando 45 minuti. E infatti, quando aumenta la temperatura non possiamo tenere le finestre aperte perché, diciamo, l'odore entra fin dentro casa. E abbiamo chiamato sia l'assessore Ricciardi, sia Piccenna nel periodo che stava lui. Avevano detto che stavano, diciamo, provvedendo, che c'era la gara d'appalto, però non è successo niente. 9 anni oggi. Ci sono i canali sporchi e non si puliscono mai. Chiamate l'assessore, vengono, guardate se ne va. Solo questo vedono qui. E le tasse non le paghiamo. Qui vengono all'imperato di Puglia. Per gente che passa, che va all'imperato di Puglia... Non vede, sono sì che quando arrivano qui... Quando arrivano qua, è una cosa brutta. Ci danno gli occhi. Quindi se succede nuovamente una bomba d'acqua, naturalmente ci infangheremo nuovamente con un metro di fango che abbiamo avuto giù nelle nostre case. A distanza di 9 anni, la situazione della Gravinella giù al campo sportivo è sempre uguale. Non è cambiato niente, né la strada, né l'erbaccio che sta nel canale. Niente, niente. Se fa un altro alluvione, qua non si capisce più niente, perché le erbacce sono... Dieci metri sono fatti altri, le piante nel canale. Di cui i soldi sono arrivati. Ma dove stanno questi soldi? Dove stanno? Si sono persi per la strada. I mezzi stavano parcheggiati perché dovevano incominciare i lavori. Poi i mezzi si sono persi per la strada. Noi non sappiamo più che fare. Non sappiamo più che fare. Venti giorni fa è venuto un assessore. L'assessore Galante è venuto a casa mia a fare sopra luogo. Tra 15 giorni incominciamo i lavori. È passato un mese e mezzo. Non si è visto niente. Ancora io parlai con l'impresa. E l'impresa mi ha detto che ancora i documenti non sono ancora pronti. Vengono solo a prendere per i fondelli quando vogliono i voti. La rimanenza non se ne fregono niente. Niente. Almeno che vengano a pulire il canale. Visto che è ancora in uno stato totale di abbandono. Quindi solo questo chiediamo. Anche perché ci sono i bambini. Passano i bambini. Non si può stare. Non si può vivere in questo stato. Solo questo chiediamo. I nostri diritti. Visto che le tasse le paghiamo. Come vedete una strada comunale ma non è né spaltata né accudite i canali, l'erbaccio che io taglio due volte all'anno. Primavera, estate. Adesso mi sono stangato. Crescesse quando voleste. Venissero da sopra il comune, venissero da sopra il comune, venissero a vedere e tagliassero. Perché c'è gente che spassa e gente che deve lavorare. Perché? Perché io le tasse le pago. Quando arrivo l'immondizio devo pagare. Se no succede brutto. Arrivederci. E grazie. Quando vi volete decidere. Stiamo aspettando. Abbraccio aperto. Grazie.